Si chiama Clara Sekin, è una giovane donna e pensate che ha divorziato da suo marito per colpa del cane. Il cane appartenente a entrambi, il quale ha azzannato al volto la figlia di entrambi, di soli tre anni di età, e così la donna si è trovata davanti a un bivio con la scelta o dare addio al cane oppure terminare il matrimonio. Alla fine la scelta è ricaduta sul terminare il matrimonio con l'uomo che amava e o ama ancora oggi. E' stata la stessa donna in questione a raccontare tutto su TikTok attraverso uno sfogo messo sotto forma di video, raccontando dall'inizio alla fine quello che era successo, ma la donna non si pente minimamente parlando. Dice, io sono soddisfatta, io sono felice, raggiante e giuliva della scelta che ho voluto compiere, della scelta che ho voluto prendere, in barba a eventuali problemi di sorta, ho fatto questa scelta, non torno indietro, faccio una fragaria del matrimonio col mio uomo, mi divorzio, mi divido da lui. Ok? La scelta era quella di lasciare il cane e lo abbatterlo oppure far una fragaria del matrimonio. Bene, la scelta è stata compiuta sul far una fragaria del matrimonio con l'uomo. Ok? Da narrato italiano tutto, ciao.